I militari del comando provinciale di Chieti nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria hanno rinvenuto presso un'abitazione privata un imponente quantitativo di materiale esplodente. La vicenda risale all'estate appena trascorsa quando le fiamme gialle della tenenza di Ortona durante la perquisizione della casa di un 53enne ortonese hanno rinvenuto 930 candelotti artigianali dal peso complessivo di oltre 60 kg, un fucile da caccia e varie cartucce calibro 12. I finanziari hanno proceduto al sequestro di quanto reperito e al deferimento del proprietario dell'edificio alla procura della Repubblica di Chieti per i reati di detenzione abusiva di armi, detenzione e commercio abusivo di sostanze defagranti. Sono ancora in corso le indagini per accertare la provenienza e la finalità del materiale esplodente scovato e dall'esito delle analisi eseguite dai carabinieri si potrà comprendere la natura chimica dei composti dinamitardi nonché l'eventuale utilizzo degli stessi in eventuali atti criminosi precedentemente censiti. Su disposizione dell'autorità giuriziaria teatina in una cornice di sicurezza risposta alla prefettura che ha visto partecipi finanziari locali, una squadra artificieri e antisabotaggio del comando provinciale dei carabinieri di Chieti, una unità dei vigili del fuoco e persone del 118, si è proceduto in totale sicurezza alle operazioni di brillamento dei candelotti artigianali.